ecco io sto per fare una cosa nuova essa sta per germogliare non la riconoscete sì io aprirò una strada nel deserto farò scorrere dei fiumi nella steppa le bestie dei campi gli sciacalle gli struzzi mi glorificheranno perché avrò dato loro l'acqua al deserto fiumi alla steppa per dar da bere al mio popolo al mio letto il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi ancora una volta ci vengono proposte delle immagini parole che stimolano la nostra immaginazione le nostre sensazioni faccio una cosa nuova adesso in questo momento manifesto una cosa nuova sensazione di alleggerimento faccio scorrere fiumi nella steppa sensazione di appagamento gli animali danno lode al signore perché hanno potuto bere nel deserto si sono potuti dissetare oggi come ai tempi del profeta esaia dio vuole apportare nelle nostre vite a volte simili a dei deserti dell'acqua acqua viva acqua nuova acqua fresca acqua eterna affinché in ogni istante possiamo andare a dissetarci e lodare Dio di tutto questo buona giornata